Alla fine del secolo XIX si stampa un'enciclopedia, Vallardi, che si chiama Enciclopedia Illustrata della Società per la Emancipazione Intellettuale. È una deliziosissima enciclopedia, due tomi molto grandi più una serie di illustrazioni. Non reca date, ma si può datare internamente vedendo alcune voci. Quindi siamo certamente dopo il 1883. Perché dico questo? Perché c'è una voce su Marx, molto breve, in cui dice apostolo del riscatto del mondo del lavoro, è morto a Londra nell'83. Quindi siamo sicuri che siamo dopo quella data. Ma grosso modo non oltre il 90. Partito, dice questa enciclopedia, devo dire sicuramente illuminata, quasi direi positivistica nei presupposti, illuministica, generosa anche nella scelta delle voci, imita un po' l'enciclopedia, perché c'è un intero volume tutto di tavole, come appunto nella grande enciclopedia. Partito, nel linguaggio politico indica un certo numero di persone collegate insieme nell'intento di arrivare ad uno scopo, ma in opposizione alle mire del governo. Che curiosa come definizione. Cioè il partito nasce in quanto voce organizzata di dissenso rispetto al potere. Quindi, dice, ma finisce prestissimo, dopo due righi, vi è il partito liberale, il partito clericale, legittimista, repubblicano, eccetera. Definizione che non è, diciamo, completamente ingenua. Rispecchia una certa idea che il partito è qualche cosa che si contrappone e organizza una pluralità di persone che si contrappongono a un dominio, a qualche definito genericamente governo. possiamo passare all'enciclopedia italiana, che è un monumento di dottrina che rispecchia l'epoca in cui fu fatta, perché nasce nel 1929 e va avanti fino al 37-38, poi un primo appendice nel 38, quindi siamo negli anni di pieno controllo del fascismo sull'Italia e prestigio del fascismo nel mondo. La voce partito la scrive un personaggio interessante, un docente di filosofia a Bologna, Felice Battaglia, cattolico in realtà di suo, o perlomeno tale, appariva in maniera molto ostentata dopo la fine del fascismo. però è una voce sintonica rispetto al clima del tempo perché il succo di questa voce è che il partito nasce dal naturale istinto alla lotta che domina l'umanità, anche nel suo stato sociale, anche quando la società si è organizzata. La guerra è fenomeno di organizzazione sociale, quindi partito e guerra, lotta, sono strettamente connesse, secondo questa sintesi che fa il battaglia alla voce partito. Poi va avanti, riflette una letteratura d'epoca molto interessante, senza nominarlo esplicitamente, ma allude alla teoria elitistica, anche in qualunque partito, anche il partito operaio è guidato da un'elite, quindi c'è un'oligarchia, la ferrea legge delle oligarchie, tutti i partiti hanno un vertice di tipo oligarchico e quindi, un salto logico piuttosto veloce, quindi il partito unico, o meglio la dittatura di una grande figura che può chiamarsi Führer, può chiamarsi Duce, dice lui, esemplifica come se fosse per caso due nomi scelti a caso, sintetizza questa spinta di tipo oligarchico che è inerente ai partiti medesimi. Va bene, è chiaro che un po' si arrampica sugli specchi, ma quello che più mi pare interessante di questa voce, poi abbandoniamo l'enciclopedismo, è la connessione con il concetto di conflitto. E allora facciamo questo salto all'indietro che io suggerivo potersi fare per entrare in tema, ben sapendo che tantissima letteratura storiografica parla di partiti nel mondo antico, nella Grecia classica, nel mondo romano-repubblicano e via e via, fino alla Firenze medievale del tempo di Dante e potremmo andare avanti. Ben sapendo che questa letteratura che adopera la parola partito è molto solida, molto rispettabile, per dire un nome per tutti, Theodor Momsen, forse il maggiore storico di Roma, vissuto tra il 1817 e il 1904, quindi ha vissuto l'intero 800, e tante sue cose per noi sono tuttora fondamentali, e nella sua memorabile storia di Roma la parola partito ricorre in continuazione. Il partito oggi molti, e non da oggi soltanto, hanno molta critica verso questa sua impostazione, verso il suo linguaggio che non è suo soltanto, potremmo portare altri esempi. Bene, la parola greca, greca, che inevitabilmente si evoca quando si parla di partiti nell'età arcaica, è stasis, una parola greca molto semplice, stasis, che è curioso, a parte che il greco ha una caratteristica, secondo me, unica, filosofica, potremmo dire, stasis vuol dire immobilità, indica lo stato di immobilità, e quindi indica anche posizione, e quindi opinione, e quindi fazione, faccio, e quindi lotta, e quindi discordia, stasis vuol dire proprio il conflitto, e quindi tempesta, e quindi guerra civile, quindi dà la prima significazione immobilità a quella opposta. Ora, uno può dire, è tipico di alcune parole fondamentali della lingua greca, di avere questo spettro tale da coprire un intero arco di concetti fra loro alla fine opposti. Questo lo segnalo sempre, perché è una delle ragioni per cui questa lingua è intrinsecamente dialettica e filosofica. ma quello che ci preme è stasis partito, stasis guerra civile, sedizione. È quindi un concetto negativo. la storiografia coeva del V secolo, ma anche quella meno nota a noi, tranne un grande nome, quello di Senofonte, del IV secolo, ma poi ancora, saltando un po' di secoli, all'età romana di storici greci, come Polibio, che raccontano la storia romana in greco, la parola ritorna e ritorna con un evidente significato negativo. Nel mondo romano, noi sappiamo, anche nella comune rappresentazione di quella realtà, si parla di ottimati, popolari e quindi si parla di partiti. Perciò dicevo, il grande Monsen, quando racconta da par suo alla storia di Roma in quei tre volumi fittissimi che arrivano fino alla morte di Cesare, anzi un po' prima, non oltre, ad opera questo termine liberamente. Studiosi dopo di lui, molto lontani dalla sua impostazione, faccio almeno un nome, un personaggio finito tragicamente in un campo di concentramento, si chiamava Friedrich Muenzer, il quale ha posto l'accento sulla natura di clan, di clan familiari di questi cosiddetti partiti della Repubblica Romana, del tempo della Repubblica Romana. Anche Muenzer però adopera questo termine. Il libro suo più famoso, più importante, che riguarda la storia romana e repubblicana, si chiama Partiti Nobiliari Adels Partaien, Famiglie Nobiliari, Adels Familien. Il senso della sua indagine è impropriamente, noi parliamo di partiti pensando ai partiti moderni, ma in realtà avevano una genesi completamente diversa, che lui lega giustamente con un'analisi spettacolare e dottrina infinita, alle ramificazioni familiari del ceto dirigente, della nobilitas romana. A proposito di questo termine, nobilitas, nel senso comune, si parla di contrapposizioni nella storia della Repubblica Romana. Patrizio Plebei e quindi Tito Livio quando racconta la storia arcaica ad opera questi termini, pensando in realtà alla lotta politica del secolo precedente, quindi fa un cortocircuito e molti moderni ne parlano come di schieramenti partitici, per cui stupisce il fatto che in realtà la nobilitas romana da un certo momento in avanti è Patrizio Plebea, nel senso che famiglie Plebei entrano nella nobilitas attraverso il meccanismo del consolato, il che squaderna completamente la partizione molto semplice Patrizio Plebea più belle dall'altra, ottimati da una parte e ottimati popolari dall'altra, che non coincidono. C'è un passo molto noto di Seneca, filosofo, nel De Beneficis, che è un'opera labirintica, che parla a un certo momento per ragioni inutili ora dire, di Caio Gracco, il fratello minore di Tiberio, quindi siamo nel 123 avanti Cristo, e dice Seneca, pensando in realtà anche a realtà che non sono propriamente di epoca repubblicana, che intorno a Caio Gracco c'era una cerchia, lui dice, sia Caio Gracco che Druso dopo di lui, instituerunt segregare turbam suam, cioè stabilirono di suddividere per gruppi i propri seguaci, turbam suam, dove turba non è un parola offensiva, et alios in secretum recipere, cioè un gruppo ristretto molto vicino a lui e quindi addentro ai segreti diciamo politici suoi propri, alios cum pluribus, alios universos, cioè cerchi concentrici intorno alla figura di un leader, peraltro molto capace, molto impegnato e tragicamente finito come Caio Gracco che è una struttura piramidale molto diciamo primitiva rispetto a quello che noi immaginiamo come struttura di un partito però simile all'idea di organizzare come diceva la brava enciclopedia Vallardi un gruppo di persone avente un obiettivo comune con però una graduatoria di impegno di vicinanza al capo, al leader c'è un passo di tacito che riguarda un personaggio molto difficile da valutare come l'imperatore Tiberio il quale anche quando era in viaggio nelle varie province suddivideva il suo seguito in gruppi analogamente strutturati i più vicini i meno vicini quelli che devono sapere poco quelli che devono sapere tutto o quasi dato il tipo va bene quindi c'è questo germe potremmo dire di struttura partitica per usare un termine modernistico che attraversa la realtà politica antica in forme proprie in forme del tutto specifiche che noi assimiliamo al concetto di partito facendo in realtà un'operazione modernistica io vi ho descritto penso con qualche semplificazione una visione di questa realtà tradizionale ho citato Momsen ne potrei citare anche altri per la storia del mondo greco un grandissimo personaggio che non era un professore universitario era di suo un banchiere con la passione per la storia George Groth che ha scritto la storia della Grecia in tanti volumi che ancora oggi consultiamo certo al tempo suo a metà ottocento non c'erano né epigrafi né papiri e quindi la documentazione era molto meno ricca della nostra però è un'opera della quale ancora ci serviamo e lui parla della vicenda per esempio Pericle contro Cimone Nicia contro Cleone Cleofonte contro Teramene potremmo continuare Demonstrene contro Eschine attraversiamo i secoli in questa maniera come di partiti moderni e quindi li connota dando un obiettivo politico una coerenza di attività nell'azione concreta siamo legittimati ad adoperare questo termine pensando alla realtà nostra questi signori Groth più di Monsen certamente questo pensavano noi credo siamo giustamente portati a un certo scetticismo rispetto a questa definizione questo gigantesco cortocircuito dei millenni perché in realtà come il buon Monsen ben capiva e diceva con la sua consueta discrezione l'elemento di gruppo di clan di famiglia di alleanze familiari trasversali per dire Caio Gracco era figlio di tutti Cornelia chi è che non si è appassionato di Cornelia il cui abbiamo il basamento di una statua non c'è la statua ma c'è il basamento su cui c'è Cornelia Graccorum però ci manca un pezzo di questa africanifilia cioè lei era figlia di Scipione africano cioè del vincitore contro Annibale va bene del cuore diciamo del potere romano delle famiglie più potenti lei era una donna straordinaria aveva una cultura immensa aveva educato questi figli anche con la cultura greca la filosofia greca eccetera e i due per antonomasia agitatori dell'ordine costituito della Repubblica nel secondo secolo sono i nipoti di Scipione africano e chi ammazza Tiberio Gracco è Scipione Nasica che è un discendente dell'africano suo parente che guida i senatori per ammazzarlo per ragioni che adesso non è il caso di illustrare quindi l'elemento che fa saltare la partizione partitica alla quale noi pensiamo quando usiamo questo termine è molto forte e si intreccia appunto con questo elemento decisivo nelle società arcaiche dei rapporti di clan di familiari rapporti di interessi che sono trasversali alternanti basta scorrere l'epistolario di Cicerone uno si rende conto di la famosa lettera una delle prime Catilinam Competitorem Nostrum Defendere Cogitamus forse faccio l'avvocato per Catilina uno dice un po' singolare visto quello che nella diffusa informazione sappiamo sul contrasto totale tra questi due quindi è un oggetto delicato però ermeneuticamente utile se uno vuole cercare di mettere ordine nella storia remota è un concetto sottoposto a critica che può fare comodo ma non è assolutamente utile ai nostri fini se ci domandiamo cos'è il partito moderno quando nasce veramente quando finalmente prende corpo e che destino ha avuto uso il passato ha avuto potrei dire che destino ha tuttora poi vediamo quale verbo quale tempo del verbo ad operare in concomitanza con vicende epocali 1648 viene tagliata la testa del re d'Inghilterra Carlo I loro hanno fatto un secolo prima quello che poi fanno in Francia con un po' di ritardo e la traiettoria della grande rivoluzione Cromwell Lord Protettore la sinistra usiamo questo termine rispetto i livellatori rispetto a Cromwell quindi un conflitto che rassomiglia a quello dei giacobini rispetto agli enragés agli arrabbiati nel 1794 in concomitanza con quel trauma enorme che è la rivoluzione inglese basta leggere Hobbes per rendersene conto comincia una divaricazione profonda in cui la formazione politica si collega strettamente a un gruppo sociale i livellatori sono un'anima radicale di un movimento che ha portato a quel breve momento di Repubblica inglese la Repubblica c'è stata anche in Inghilterra per pochi anni a seguito di quella vicenda traumatica che è 1648 per gli inglesi la vera rivoluzione del 1688 la rivoluzione incruenta sappiamo che la storia britannica ha avuto una sua propria traiettoria quando sul continente esplode la rivoluzione francese oltre Manica c'è un atteggiamento molto critico molto allarmato e riduttivo esponenti notè Burke per esempio chiamiamolo pensatore liberale parola un po' usurata è uno dei più feroci critici della rivoluzione francese e del giacubinismo naturalmente perché ma perché in quel torno di tempo drammatico che comincia nell'89 e sfocia se vogliamo nella restaurazione nella prima e poi nella seconda restaurazione si formano degli organismi che possiamo chiamare con una certa fondatezza partiti noi pensiamo a partiti come strutture piramidali un apparato un'organizzazione e ci arriveremo diciamo anticipando subito è il partito social democratico tedesco il vero primo partito dell'Europa moderna 1863 non si chiamava ancora social democratico ma partito operaio nel 75 si chiama partito social democratico ed è la fusione tra i seguaci di Lassalle e i seguaci di Marx che guarda con molto distacco questa formazione politica ma comunque un genitore uno potremmo dire il genitore due o viceversa sarà Lassalle per usare una terminologia paranoica ma molto diffusa va bene nel torno di tempo che si avvia con l'autoproclamazione degli stati generali come assemblea costituente quindi 1789 dalla presa della bastiglia in avanti c'è una ripartizione non a caso gli stati corrispondono a dei gruppi sociali il terzo stato è una borghesia intellettuale produttiva colta insofferente dell'ancien regime con tutti i suoi vincoli il mondo contadino Tocqueville ha scritto pagine fondamentali perché la rivoluzione è scoppiata in Francia perché era il luogo dove più debole era la presa feudale sul mondo agricolo e che è stato in grado di scrollarsi di dosso questa impalcatura ormai fattiscente quindi gruppi sociali che prendono forma politica dentro un'assemblea autoproclamata si costituente ma di grande prestigio come quella che scrive poi i diritti dell'uomo e del cittadino che dà l'avvio alla legislativa nel 91 che scrive una prima costituzione completa in quel torno di tempo in cui le cose avvengono con una rapidità estrema non avviene soltanto al vertice la maturazione politica la formazione il costituirsi delle forme politiche anche nel paese nella realtà del paese quando nel 92 quindi siamo a pochissimi mesi dalla conclusione dei lavori della legislativa avviene concomitanza con la guerra europea l'arresto del re che è il gesto più clamoroso della storia d'Europa a fine settecento il re di Francia viene arrestato 10 agosto del 92 si avvia un processo elettivo la convenzione nazionale nella quale sono presenti dei partiti dei veri e propri partiti al centro come spesso succede una maggioranza oscillante diciamo fra opposte scelte veniva chiamata con poco garbo la palude che è un termine che potrebbe ancora tornare utile quando si parla di fenomeni di questo tipo tra la gironda egemonica numericamente e la montagna minoritaria numericamente ma protesa a secondare un movimento di popolo un movimento reale effettivo non di tutta la Francia questo è un punto da non perdere mai di vista quando si parla dei partiti della loro rappresentatività che cosa rappresentavano è un caso da manuale potremmo dire perché 1792 20 settembre si proclama la Repubblica Francese apre i suoi lavori la convenzione i partiti rappresentati da questi gruppi che ho definito poco fa prendono posizione all'interno di questa assemblea elettiva ma questa assemblea elettiva già parte male nel senso che un pezzo di Francia non ha neanche votato perché la Vandea dopo l'arresto del re è piena rivolta una rivolta di popolo non una rivolta di minoranze diciamo così estremisticamente monarchiche una rivolta seria durevole mai domata del tutto quindi c'è un pezzo di Francia che non vota nel mezzogiorno nel midi ugualmente c'è una guerra civile strisciante quindi già la rappresentanza è parziale ma soprattutto c'è una realtà parallela rispetto a questa realtà parlamentare diciamo così e sono le sezioni parigine cioè il cosiddetto popolo di Parigi che certamente è la grande città centralisticamente protesa a dominare l'intera nazione se possibile quando sequestrano i libri dei nobili dei conventi li danno alla nazione fu una operazione culturale spaventosa enorme portare i libri alla nazione cioè a Parigi la biblioteca nazionale si chiama così perché pretende di essere la biblioteca di tutta la Francia i libri furono per fortuna portati nella biblioteca nazionale con qualche ferocia di bruciare i libri cosiddetti inutili per esempio tanti non dico i messali che va bene possono essere uguali tra loro ma anche libri considerati clericali non utili eccetera e quindi il famoso triage si chiamava l'operazione di selezione comunque un grande patrimonio fu portato alla luce era nascosto in luoghi inaccessibili e l'operazione fu ritenuta a beneficio della nazione in realtà della capitale che diventava sempre più il centro politico culturale conflittuale e anche se vogliamo di corruzione di spionaggio di infiltrazione del nemico una città tremenda in questa città la minoranza politicamente attiva si organizza in sezioni le sezioni va bene che è un termine che poi ha avuto fortuna sezione di partito adesso forse non esistono più ma ci sono state e hanno avuto una funzione molto importante perché perché sono il luogo dove i cittadini di quel quartiere di quel luogo si radunano quasi quotidianamente si può avere anche un po' di ironia verso questo naturalmente un grande scrittore francese Anatole France ha scritto nel 1912 un libro bel libro ma molto amaro molto come dire dissacrante gli dei hanno sete le die on suave che descrive in maniera non dico distruttiva ma molto riduttiva la vita di una sezione parigina quindi giovani entusiasti anziani molto più prudenti o scettici fine drammatica di entrambi nel terrore che travolge tutto insomma vivere nelle sezioni era anche questa dura vita che Anatole France che peraltro non aveva visto queste cose ma le aveva lette in tanta letteratura per dire Charles Dickens storie di due città una è Londra l'altra è Parigi Londra è in realtà positiva Parigi è la Parigi rivoluzionaria dove succede di tutto Charles Dickens uno scrittore che poi come dire ha descritto la condizione umana la condizione disagevole dei ceti più poveri nella sua metropoli londinese e non di meno ha questo orrore verso una città in preda alle convulsioni rivoluzionarie le sezioni le sezioni sono però la realtà concreta della rivoluzione cioè intanto esiste una base sociale di quei signori che stanno nella convenzione nazionale in particolare i montagnardi che guardano con favore alle sezioni perché ci sono le sezioni quindi questo rapporto fra una base sociale concreta con una politicizzazione acutissima dovuta al clima tutto quello che era successo nei due anni precedenti e la rappresentanza politica in forma di partito è una condizione imprescindibile per la vitalità del partito arriva a un punto di non ritorno cioè quando le sezioni si organizzano come contropotere rispetto all'assemblea eletta la convenzione e il contropotere è la commune cioè la municipalità di Parigi nel resto della Francia succedono tante cose fra loro molto contraddittorie le ho appena ricordate prima la Gironda è maggioranza parlamentare con l'aiuto della palude e vuole chiudere la partita con la commune cioè liberarsi di questo contropotere lo scontro avviene nel fine maggio inizio giugno del 93 le sezioni si mobilitano e cosa che fa un po' sorridere la convenzione si riuniva in una delle ali del Louvre che è molto grande ma insomma in una delle ali c'era la sede l'aula parlamentare assediano la convenzione c'è un un richiamo le talk center la campana a stormo che all'alba chiama e gli appartenenti alle sezioni si raccolgono portano un cannone giusto per dimostrare una certa vivacità di intento diciamo così e chiedono sostanzialmente che vengano cacciati i deputati girondini che ce l'hanno con la commune che vogliono chiudere la partita liquidando questo contropotere o comunque cancellando una serie di norme leggi eccetera che le sezioni avevano ottenuto o privilegi di fatto che avevano ottenuto braccio di ferro che dura due o tre giorni è stato raccontato in tante forme diverse c'è tantissima memorialistica su questo eccetera alcuni punti rimangono oscuri chi è che ha deciso alla fine chi ha dato il là all'atto finale l'atto finale è l'arresto di una ventina di deputati girondini alcuni dei quali scappano e si salvano altri non si salvano affatto e la vita parlamentare ricomincia decurtata di un pezzo cioè di una parte cospicua del partito che era maggioritario fino a quel momento ed è stato travolto da una base politicamente iperattiva che si è fatta valere con la forza il racconto diciamo così giacobino di questa vicenda è esaltante esaltatorio no? la volontà popolare si è affermata corrisponde a che cosa questa ho raccontato questa vicenda che è una vicenda drammatica perché uno degli esponenti più eloquenti potremmo dire Saint-Just era giovanissimo prima della rivoluzione era un poeta delicatissimo si aveva poesie temo mediocre o comunque inutili poi diventa più radicale diciamo teorico del giacobinismo molti molti alcuni suoi scritti sono sopravvissuti sono stati pubblicati molto dopo da Sobul un grande storico filo giacobino della rivoluzione e frammenti sulle istituzioni repubblicane uno dei concetti che lui sviluppa è le fazioni cioè i partiti distruggono la repubblica una è la virtù e per i giacobini la virtù è il fondamento stesso della politica e quindi uno è il partito cioè la teoria del partito unico scaturisce da una interpretazione se vogliamo coerente del giacobinismo secondo cui stante i principi nei quali noi ci riconosciamo e che tutti dicono di accettare non si vede perché ci debba essere una frantumazione partitica se la virtù è una ragionamento schematico non sto dicendo viva se è giusto sto dicendo un personale che poi ha pagato di persone è stato ghigliottinato nel 9 termidoro del 94 insieme agli altri capi cosa curiosa quando con un colpo di stato di fatto la parte anti-robespierrista della convenzione procede all'arresto a sorpresa di Robespierre e degli altri leader Couton Saint-Just eccetera le seczioni praticamente non si muovono cioè un fenomeno molto interessante dell'abilità di questo rapporto base-vertice base-leader di partito nel momento cruciale certo si era logorata la vicenda la sinistra diciamo estrema i famosi arrabbiati alla fine erano stati a loro volta colpiti dal centrismo robespierrista quindi le seczioni avevano avuto anche molti motivi di disappunto rispetto al potere giacobino tra di fatto che il nuovo termine d'oro non si muove nessuno o quasi e questi vengono ghigliottinati salvo poi rivedere riaprirsi una spinta con Babèf quindi nel 96 quando ormai il direttorio domina tornata tranquillamente la volontà di arricchirsi il famoso motto arricchitevi il motto del direttorio siamo liberati di questi sciagurati giacobini robespierre la virtù questa sorta di savonarola laico e quindi arricchitevi perché abbiamo la possibilità di farlo e a quel punto una parte della popolazione soprattutto parigina ma non solo si riconosce in Babèf con giura degli uguali altro massacro molto duro e molto violento è stato raccontato poi da un giovanissimo seguace di Babèf che si chiamava Filippo Buonarroti lontano discendente e maestro potremmo dire di Mazzini di Mazzini